Oggi c'è confusione a Ballarò, è proprio un sacco di turisti proprio, è pieno pieno di turisti che ti senti? Pieno pieno di turisti, 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 turisti Turisti, 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 turisti 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 �ai, meh, da voi picci Quanto è comunque? Quanto è il turista? E quando me lo puoi? La città che non lo vado a fare non ti esce? Si, ma forse la capo di me lo vado a fare con i ristetti. Quale non c'è ne vuoi rosa? Adesso chissà se è meglio schincione e fegge. Che cosa è quanto? Freddo? Lo conosci o no? Lo conosci quei... Freddo? Lo sai quanto è che sono qua? Quanto? Parla, ti ascolto, parla. 20 anni è che sono qua. È buonissimo, senta l'odore, è croccante, è un bel colore. La differenza fa freddo e caldo? Dipende... C'è chi lo deve mangiare ora e si serve caldo. C'è chi lo lo porta a casa e lo lo porta? C'è chi lo porta a casa 1.50. Però la differenza, secondo me, è perché c'è chi lo mangia pure freddo. Secondo me è croccante. Croccante, caldo, sì. È un'altra cosa. Ma sai com'è? Il mangiare è sempre un gusto personale. Ognuno... C'è niente che solo ti posso finire il po' freddo. Freddo. È una vita che lo prende lo freddo. A me cassa dire. E non lo so come ci finirà. No. 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 No.